Questione allenatore, è il nodo principale da sciogliere qui a Milanello. Il sogno è Carlo Ancelotti, otto stagioni sulla panchina rossonera e otto trofei vinti. Il desiderio numero uno del Milan è quello appunto di riportare Carletto in rossonero. Del futuro tecnico del Milan ne ha parlato anche l'attuale tecnico del Milan, Filippo Inzaghi. Andiamo a sentire le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Ancelotti è un grandissimo allenatore, non sta a me a scoprirlo, è una persona che sento spesso, per cui niente da dire, però fin quando non mi sarà comunicato niente, non mi è stato detto niente, mi è stato detto di continuare il mio lavoro. Penso che il Presidente ieri abbia detto delle cose su di me, ancora, che nessuno è stato esonerato, se non sbaglio, per cui si va avanti. Io con il Dottor Gagliani parlo come col Presidente di tutti i giorni, sanno benissimo quelle che sono le mie opinioni e penso che dopo 8-9 mesi, 10, di avere idee molto più care, sia sulla rosa, sia su quello che si debba fare per tornare a essere grandi. Io ho contratto, spero che mi sia data la possibilità per tornare presto il Milan dove tutti noi milanisti vogliamo, solo questo. Qual è la reale situazione in casa Milan legata appunto a Carlo Ancelotti? Ne abbiamo parlato col giornalista Mediaset Carlo Pellegatti, l'ha intervistato per noi, Michael Cuomo. Una suggestione, un sogno quasi per i tifosi rossoneri, un ritorno fattibile e quindi possibile? Dipenderà un pochettino dalle argomentazioni di Silvio Berlusconi, che ha già parlato, come abbiamo letto, con Carlo Ancelotti e con Adriano Gagliani, nel caso che si vedano all'inizio della settimana prossima. In questo momento non mi sembra facile, però dipende, ripeto, dalle argomentazioni, dal progetto del Milan, la decisione di Ancelotti. Non so se avrà voglia di tornare in Italia a riaffrontare questo duro compito di riportare il Milan in alto. Su Ancelotti allenatore ovviamente nessuno può dire nulla, è un allenatore che ha sempre vinto, quindi vediamo. Il possibile ritorno di Carlo Ancelotti al Milan? Ne abbiamo parlato con i tifosi, li ha sentiti per noi Fulvio Ferraboli. Cosa ne pensate di un possibile ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan? Sarebbe un bel colpo, anche perché l'inesperienza di Inzaghi e Seedorf hanno portato questi risultati, però ci vorrebbero anche dei giocatori un po' più seri, un po' più professionisti, perché stanno dimostrando con i risultati che ormai sono un paio d'anni che ci stanno dando solo delusioni. Un ritorno di Carlo Ancelotti al Milan al posto di Inzaghi che sembra ormai agli sgoccioli? Sarebbe la cosa giusta da fare, però bisogna costruire pure una squadra di un certo livello, pochi ma buoni. Non hai la bici da corsa, c'è il Giro d'Italia, però mi sembra di capire che tu il ritorno di Carletto Ancelotti sulla panchina del Milan... No, è una minestra riscaldata, come Cappello, come Sacchi Bis e come queste cose, secondo me Ancelotti come allenatore, non lo so perché, ma ci sono allenatori che sono appoggiati dai giornalisti, perché lui... Insomma, il suo curriculum parla da sé. Adesso gli dico io il curriculum, con il decoportivo La Corugna, non so se era una semifinale di Champions, 4-1 San Siro, siamo andati a casa. A Istanbul, vinciamo 3-0, abbiamo perso, con dei signori giocatori, non con giocatori scarsi. Però con signori giocatori come a Real quest'anno, una Supercoppa, una Coppa del Mondo per club. Quest'anno l'ha persa, con la Juve ha perso in semifinale, con giocatori miliardari, ha sempre avuto giocatori forti. Nel Manchester City, nel Chelsea ha vinto uno scudetto, poi nella malattoria di Matteo ha vinto la Coppa dei Campioni, si ricorda? Grazie a tutti.